ecco a voi le corpette otto armi cosa ci vuole per fare queste corpettine? il pane gozzato il prezzemolo il nostro con mangio che mi ha la taglia scritto e l'olio bravissima uova uova tonno e va bene così che ora incominciamo a preparare queste corpettine ortovane prima di tutto mettiamo a sbollentare patate e carote nel frattempo in un altro contenitore grattugiamo le zucchine ok uniamo ora tutte le verdure nel contenitore schiacciamo le verdure ma tutte e tre insieme dai mamma mia ora che è tutto bello schiacciato e amalgamato uniamo la cipolla uniamo il tonno poi mettiamo il vostro formaggio a volte tienilo ecco ecco ehi ci vuole fare bene dignelo di qual è questo formaggio il nostro dignelo sussito uova brava metti il prezzemolo bene sale il pane è ottenuto va benissimo e mettitelo tutto dai ok va bene ora amalgamiamo tutto e facciamo le polpettine io ti faccio vedere come fare la prima coppettina e poi lo fate scivolare delicatamente vedi ok così 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 e lo metti qua ok un consiglio che ti do va bene prendine un bel po' nelle mani così fai il coppettino sta direttamente nella mano e poi lo passa all'ultimo la testa hai visto? bravissima brava dove ne vuoi tocca a te prendi prendi ok e se lo sentiamo e ci vogliamo e ci ingorniamo ecco con voi le polpette ottowaj e adesso assaggiamo mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm buona come è? buonissimo E' squisito! Ma lo prendo io questo altro? No, lo prendo io! Era mio! Ed è mio! Dov'era mio? Robertina, ma dove troviamo tutti questi prodotti? Nel sito, siccani sull'edale, shop.com Silvitemi su Instagram, un like su Instagram e un like su Youtube Ciao a tutti! Buon Pranzo! A noi! Mia mia mia! Ciao a tutti!